Le cattedrali gotiche sono un inno alla preghiera. Costruite tra il XII e il XIII secolo, queste chiese con le loro torri e la loro grazia rappresentarono l'espressione massima della cristianità medievale. Ma è possibile che quelle splendide facciate nascondessero simboli arcaici e mistici, icone alchemiche condannate dal Vaticano? Alcuni ritengono di sì. La cattedrale di Notre-Dame a Parigi. Incassate tra le magnificenti sculture di Cristo e dei Santi, si trovano alcune strane figure pagane. Una donna mostra una salamandra che sembra avvolta dalle fiamme. Un soldato combatte coraggiosamente contro nemici invisibili. Una figura sconosciuta esamina un misterioso fiasco. Come simboli cristiani non hanno alcun significato, ma erano ricorrenti nell'alchimia. I simboli alchemici sono presenti sia a Notre-Dame che in molte cattedrali dell'epoca. In una delle nicchie di Notre-Dame, ad esempio, c'è una donna con uno scudo, sul quale è raffigurata una salamandra avvolta dalle fiamme. La salamandra è un animale acquatico, in grado di secernere un liquido lattiginoso che le consente di non bruciare, riuscendo a sopravvivere anche se gettata tra le fiamme. Questo, naturalmente, contribuì a diffondere la credenza medievale secondo cui la salamandra era una creatura del fuoco e dunque immune ad esso. Il significato delle misteriose immagini di Notre-Dame rimane controverso. Durante tutto il Medioevo, ad ogni modo, gli alchimisti portarono avanti le loro segrete ricerche a volte proprio all'interno della Chiesa Cattolica. Uno scavo archeologico nei giardini del Louvre a Parigi ha permesso di riportare alla luce una latrina con all'interno alcune attrezzature utilizzate dagli alchimisti. Anticamente, in quel luogo, sorgeva un monastero e studiosi di chimica hanno scoperto la presenza di sostanze alchemiche che i monaci erano soliti utilizzare. Uno dei più grandi alchimisti del Medioevo fu un frate inglese che visse nel corso del XIII secolo, Roger Bacon, un animamente riconosciuto come il più brillante scienziato della sua epoca. La fama di Bacon si andava diffondendo, così come le voci su ciò che avveniva nel suo laboratorio. Si sussurrava, infatti, che fosse capace di evocare il diavolo e che avesse realizzato una testa parlante in ottone e uno specchio in grado di predire il futuro. Tutto ciò non poteva essere tollerato dai vertici ecclesiastici. Nel 1284 il Papa decise di arrestare quel monaco così stravagante con l'accusa di eresia. Il più grande alchimista dell'Europa medievale passò il resto della sua vita in carcere. Il destino di altri, ad ogni modo, fu ben più triste. Nella credenza popolare lo zolfo era associato al diavolo e all'inferno. Chiunque, entrando nel laboratorio di un alchimista, avrebbe potuto sentire l'effluvio dello zolfo e accusarlo di invocare il demonio. Per questo molti alchimisti del Medioevo vennero condannati a rogo, in quanto ritenuti degli streconi. Nel 1317, 33 anni dopo l'arresto di Roger Bacon, Papa Giovanni XXII decise di proibire una volta per tutte la pratica dell'alchimia. L'alchimia d'ora in poi è bandita e chiunque la pratichi verrà punito. Il tesoro pubblico, inoltre, gli confischerà a beneficio dei poveri tutto l'oro che si è riuscito a produrre e se non avrà mezzi sufficienti a tale fine sarà considerato un criminale. Papa Giovanni XXII. La Chiesa considerava l'alchimia opera del demonio e gli alchimisti maghi ed eretici spesso torturati e condannati a rogo. Le tradizioni alchemiche sarebbero andate completamente distrutte se nonostante il divieto ufficiale non si fosse provveduto nel segreto dei conventi a tradurre e ad adattare gli antichi testi che ne tramandavano le nozioni. Fin dalle origini si riteneva che la conoscenza perfetta dell'alchimia fosse contenuta in un unico libro nascosto nella tomba di un re. Nonostante la proibizione papale molti alchimisti perseverarono rischiando gravemente la vita sia per le eventuali persecuzioni che per le sostanze pericolose maneggiate nella pratica quotidiana. Occorre ricordare che molti alchimisti dell'epoca utilizzavano il mercurio e lo zolfo. Combinando i due elementi si possono realizzare diversi composti chimici come il fulminato di mercurio l'elemento principale per le capsule esplosive o i differenti composti dello zolfo necessari per la polvere da sparo. Maneggiando del fulminato di mercurio e depositandolo nel momento sbagliato si rischiava di saltare in aria assieme alla fornace e all'intero laboratorio. Ciò accadeva molto di frequente. In molti infatti rimasero mutilati altri addirittura persero la vita. Ma nonostante le morti per esplosione accidentale e quelle per mano della chiesa un alchimista medievale forse riuscì ad ottenere quell'antico segreto cercato per secoli la pietra filosofale. A metà del XIV secolo Nicolà Flamel era un umile scrivano che viveva a Parigi e si guadagnava da vivere modestamente come copista di manoscritti. Oltre a questa attività passò decenni ad interpretare i simboli segreti dell'alchimia. Il 17 gennaio del 1382 Flamel affermò di essere finalmente riuscito a trasformare il mercurio in oro puro. Nonostante la storia possa sembrare frutto della fantasia i registri municipali della Parigi medievale ci tramandano un fatto sconcertante. Agli inizi del XV secolo poco prima di morire Nicolà Flamel e sua moglie sovvenzionarono la costruzione di 14 ospedali tre cappelle e sette chiese. Come avrebbe potuto un modesto scrivano permettersi di elargire una fortuna in opere di carità. Ancora oggi l'incertezza circonda quest'episodio. Anche la morte di Flamel è avvolta nel mistero. Per secoli si mormorò che la pietra filosofale gli avesse garantito l'altra grande chimera dell'alchimia la vita eterna. Forse la leggenda di Flamel è solo un'illusione creata d'arte per incoraggiare chi continuava in vano la ricerca della sempre sfuggente pietra filosofale. Ma mentre gli alchimisti lavoravano in gran segreto rischiando gli strali del Vaticano il vento stava per volgere al loro favore. L'Europa medievale si preparava al Rinascimento un periodo glorioso che avrebbe celebrato la sete di sapere e l'onnipotenza dell'uomo. All'inizio del XVI secolo una nuova era spazzò via l'antico mondo medievale. dopo secoli di sottomissione alla religione gli europei festeggiavano la liberazione rinascimentale. L'uomo non era più confinato a semplice immagine della divinità ma si elevava al centro dell'universo libero di utilizzare il potere della sua mente per esplorare e conquistare la natura. Era tempo che l'alchimia uscisse dall'oscurantismo medievale per entrare di diritto in una nuova epoca. Il Rinascimento fu l'età dell'oro dell'alchimia che conobbe una diffusione quasi illimitata. Gli alchimisti erano ormai a servizio dei principi di tutta Europa. le corti divennero teatri di ogni genere di spettacolo e l'alchimia divenne solo una delle tante facce di quello spettacolo. Ogni nobile dell'epoca aveva bisogno di un alchimista di corti. Era come avere un astrologo un gigante un buffone o un nano. Serviva per salvare le apparenze. Nel 1580 l'imperatore Rodolfo II uno dei monarchi più potenti d'Europa aveva assoldato oltre 200 alchimisti che lavoravano nelle vicinanze del suo palazzo di Praga in una strada denominata Vicolo dell'Oro. Per gli alchimisti il patrocinio di un aristocratico era la fine di ogni preoccupazione finanziaria ma anche fonte di nuove preoccupazioni. L'alchimista era sempre in una posizione scomoda. Da un lato doveva decantare le proprie capacità e dall'altro doveva fare attenzione a non rivelare i propri segreti. Doveva provare di saper trasmutare in oro l'argento il piombo o qualsiasi altra sostanza ma a volte quando non ne produceva a sufficienza poteva correre dei rischi. La storia ci ha tramandato racconti di principi disumani che torturavano gli alchimisti per costringerli a rivelare il segreto della loro arte. Quando l'oro promesso non si materializzava gli alchimisti erano costretti a fuggire per aver salva la vita. eppure nonostante i rischi il fascino di vivere a spese di un nobiluomo rese l'alchimia molto popolare durante il rinascimento ma divenne anche una delle frodi più comuni del periodo. rileggendo i rapporti legali sembra che in molti casi gli alchimisti fossero stati torturati e giustiziati in quanto ciarlatani e ciò accadeva molto frequentemente. succedeva spesso che un alchimista fosse scoperto mentre spacciava oro contraffatto in luogo dell'oro puro. Il signore in questione profondamente offeso faceva giustiziare l'alchimista che veniva vestito con ornamenti in oro e impiccato a volte addirittura su un cappio dorato un simbolismo perfetto per l'esecuzione di un alchimista. Eppure esistono strane conferme sulle trasmutazioni ancora oggi rimaniamo meravigliati da queste misteriose affermazioni. Com'è possibile che gli alchimisti del XVI secolo riuscissero nell'intento apparentemente impossibile di ottenere la trasmutazione? La risposta a questo interrogativo forse nell'antico detto non è tutto oro quel che luccica o almeno non è oro puro. Secondo gli alchimisti l'oro era un metallo pesante di colore giallo e malleabile che poteva essere trasformato in lamine anche molto sottili. Era duttile fino al punto da poterne ricavare un filo ma soprattutto era resistente alla corrosione. Qualsiasi metallo con queste caratteristiche poteva essere definito oro e sembra che alcuni riuscirono davvero a produrre delle leghe in grado di soddisfare queste condizioni. A dominare questo tumultuoso mondo rinascimentale caratterizzato da avidità misticismo e inganni fu la misteriosa figura di Philip Theophrast Bombast von Ohenheim meglio noto come Paracelso. Fu uno dei personaggi storici più controversi più controversi. Il suo secondo nome Bombast entrò nel vocabolario inglese come bombastic magniloquente pretenzioso. Ma nonostante la sua presunzione Paracelso aveva molto di cui potersi vantare. Fu lui a conferire all'alchimia un nuovo e più nobile scopo. Mentre altri alchimisti della sua epoca cercavano di produrre oro per i principi Paracelso si servì della sua arte segreta per alleviare la sofferenza umana. Paracelso è una delle figure più stravaganti della storia della medicina profondamente rispettato e odiato al tempo stesso divenne celebre per aver trovato la cura a malattie che sino ad allora si erano dimostrate resistenti ad ogni tipo di trattamento. Paracelso ben più all'avanguardia rispetto alle superstizioni medievali scoprì che i minatori morivano di una malattia polmonare causata dall'inalazione di polveri minerali non per chi offendessero gli spiriti collerici delle montagne. Inoltre quando in Europa si propagò un'epidemia di sifilide una nuova terribile malattia portata dagli esploratori delle Americhe Paracelso trovò la cura adeguata sfruttando una delle sostanze alchemiche più pericolose. Paracelso difese a spada tratta l'impiego del mercurio per la cura della sifilide nonostante si sapesse che il mercurio allo stato puro fosse tossico trattandolo chimicamente poteva essere trasformato in forme non del tutto nocive per l'uomo. I medici hanno utilizzato il mercurio per trattare la sifilide sino al XX secolo. Paracelso è ricordato come uno dei più grandi medici della storia un epitafio che lui stesso avrebbe sottoscritto volentieri anche perché fu il primo a vantarsi di aver creato la vita umana. Affermò di aver dato vita ad un essere umano in miniatura nel suo laboratorio riproducendolo artificialmente in provetta con l'aiuto degli strumenti chimici a sua disposizione. Disse di aver battezzato la creatura omuncolo. Ben lungi dal nascondere il segreto della creazione del suo omuncolo Paracelso divulgò la formula della vita umana. Era necessario lasciare in un contenitore ermetico dello sperma umano e dello sterco di cavallo per 40 giorni magnetizzarlo e infine nutrirlo per altri 40 giorni con sangue umano. Il risultato secondo Paracelso era un essere umano in carne ed ossa. Può essere cresciuto e distruito come qualsiasi altro bambino fin quando non raggiungerà l'età in cui sarà capace di badare a se stesso. Paracelso. La notizia dell'omuncolo sconcertò l'Europa i nemici di Paracelso erano indignati e lo accusarono di atteggiarsi a Padre Eterno altri alchimisti invece tentarono di creare l'omuncolo nei loro laboratori sebbene molti affermassero di esservi riusciti stranamente nessuno arrivò mai a mostrarlo neppure lo stesso Paracelso. Alla fine anche l'ego smisurato di Paracelso fu ridimensionato dalle paure per ciò che stava facendo annunciò al mondo intero di aver distrutto quell'essere vivente che un tempo si vantava di aver plasmato. Ritenne moralmente inaccettabile la creazione di un individuo che non possedesse un'anima non poteva dar vita ad una creatura che ne possedesse una perché solo Dio aveva la capacità di donare l'anima all'uomo Paracelso morì nel 1541 paradossalmente la sua grande intelligenza innovativa potrebbe aver causato il declino dell'alchimia nel secolo successivo l'antica arte fu screditata da una nuova scienza sperimentale che Paracelso stesso aveva contribuito ad ispirare eppure mentre l'Europa viveva nell'età dei lumi gli oscuri segreti dell'alchimia non persero mai il loro fascino ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria Isaac Newton 1666 Isaac Newton scoprì le leggi della gravità e del moto inventò il calcolo e il telescopio riflettente probabilmente fu il più grande scienziato della storia solo Albert Einstein può essere annoverato tra i suoi pari gli esperimenti di fisica lo resero famoso già in vita ma in pochi sanno che Isaac Newton conduceva altri esperimenti in gran segreto un'attività che volle tenere nascosta fino alla sua morte Isaac Newton era un devoto alchimista nel 1936 a due secoli dalla morte gli studiosi rimasero sorpresi nel rileggere gli appunti sugli esperimenti di alchimia che il fisico aveva tenuto appositamente nascosti su quest'arte segreta infatti aveva scritto migliaia di pagine sua nipote Anthony Newton fu testimone dei suoi esperimenti di alchimia in primavera o in autunno era solito trascorrere sei settimane in laboratorio dove era difficile che spegnesse il fuoco sia di notte che di giorno non posso dire quale fosse lo scopo a cui mirava ma la sua dedizione e lo scrupolo che metteva in questo lavoro mi fessero pensare che si proponesse qualcosa che andava oltre la creatività e l'ingegno umani Humphrey Newton credeva nella filosofia meccanicistica secondo cui la materia è composta da particelle in movimento ma questo era sen troppo limitativo per lui quello che cercava davvero attraverso l'alchimia era il segreto dei principi vitali della natura e della materia era quasi un percorso mistico alcuni studiosi ritengono che negli esperimenti alchemici risieda la spiegazione per uno degli episodi più singolari della sua vita all'età di 51 anni Newton spedia ai suoi amici più intimi delle curiose lettere piene di strane accuse che descrivevano episodi in realtà mai avvenuti li avvisava che non avrebbe mai più parlato con loro soffriva di insonnia e altri disturbi incomprensibili per secoli gli studiosi non sono stati in grado di spiegare questo bizzarro episodio finché non si scoprì l'ossessione di Newton per l'alchimia insonnia gravi amnesie e paranoia sono tra i sintomi più classici dell'avvelenamento da mercurio è possibile che l'alchimia avesse reso temporaneamente insano di mente uno dei più grandi i geni della storia gli alchimisti maneggiavano costantemente il mercurio che era l'elemento centrale di tutte le loro teorie assaporavano le sostanze con la lingua per sentire se fossero dolci o amare se le spalmavano sulla pelle le annusavano e i loro laboratori erano pervasi dalle esalazioni e non sarei sorpresa se Newton avesse davvero subito un avvelenamento da mercurio in tempi recenti sono state analizzate alcune ciocche dei capelli di Newton sulle quali è stata ritrovata una concentrazione di mercurio notevolmente superiore alla norma in virtù dei suoi esperimenti alchemici dunque mi sembra del tutto plausibile che Newton abbia sofferto di un'instabilità mentale temporanea Isaac Newton si riprese da questa sua demenza temporanea e visse per altri 34 anni morì nel 1727 ormai 85 anni negli ultimi anni di vita confidò ai suoi amici quanto gli mancasse il suo lavoro di alchimista e che se fosse stato più giovane avrebbe dato un'altra possibilità ai metalli ma ormai alla fine del 18esimo secolo gli scienziati non credevano più che i metalli crescessero come dotati di vita propria solo pochi artisti stravaganti o gli imbroglioni praticavano ancora l'alchimia dopo aver esercitato per secoli un grande fascino sulle venti più eccesse d'Europa l'alchimia sembrava destinata ad essere abbandonata e considerata come un semplice residuato storico il relitto di un passato di ignoranza ma quell'arte così antica e mistica si rifiutava di morire all'alba del ventesimo secolo l'antica arte dell'alchimia sembrava destinata all'oblio da tempo da tempo ormai veniva considerata come una stranezza appartenente al passato ma negli anni venti ci fu un rifiorire dell'interesse per l'alchimia in seguito alla singolare dichiarazione di una delle menti europee più rudite lo psicologo svizzero Carl Gustav Jung ex allievo di Sigmund Freud ruppe i ponti con il maestro per fondare una sua scuola di psicoterapia analizzando i sogni dei propri pazienti Jung notò la presenza costante di immagini fantastiche e misteriose che a loro detta non avevano alcun legame con la vita reale per anni Jung tentò in vano di interpretare le immagini di quei sogni fin quando non si imbatte negli scritti ormai dimenticati degli antichi alchimisti studiando quei simboli arcani Jung restò sbalordito nel constatare quanto fossero simili alle immagini dei sogni dei suoi pazienti si convince ben presto che le bizzarre illustrazioni degli alchimisti fossero messaggi di guarigione psichica esse avevano origine dai recessi dell'inconscio delle anime tormentate nei tempi antichi così come in quelli moderni il simbolismo dell'alchimia è intimamente correlato alla struttura dell'inconscio i sogni di uomini e donne moderni spesso contengono le stesse immagini e metafore che ritroviamo nei trattati medievali Carl Jung 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 dedicò il resto della sua vita a perfezionare e difendere queste interpretazioni stupefacenti ed innovative dell'alchimia come una scuola segreta di psicologia del sacro tuttora i suoi seguaci portano avanti questo lavoro la psiche si deve liberare dall'oscurità nella quale è avvolta allo stesso modo in cui in alchimia l'oro è estratto dalla materia la liberazione consiste nel far emergere alla mente cosciente ciò che è inconscio come se si eseguisse una sorta di processo alchemico percorrere tortuosi processi psicoanalitici o armeggiare nel proprio laboratorio alla ricerca della pietra filosofale non è poi così differente trovare il proprio io equivale a scoprire la pietra filosofale e sia metaforicamente che psicologicamente in questo modo si raggiunge anche la trascendenza l'interpretazione psicologica dell'alchimia fornita da Jung è ancora oggi controversa ma nel corso del ventesimo secolo egli non fu il solo ad analizzare questa misteriosa disciplina all'università di Harvard nel 1941 i fisici trasferirono i potenti mezzi dell'era atomica nel campo dell'antico lavoro di trasmutazione alchemica utilizzando l'acceleratore di particelle di recente invenzione bombardano con neutroni ad altissima velocità 400 grammi di mercurio trasformando quella minuscola quantità di metallo in oro si era forse trattato della prima trasmutazione della storia o era la prova di come tale processo fosse sempre stato possibile ovviamente gli alchimisti non avevano a disposizione un'energia pari a quella contenuta in un moderno acceleratore nucleare o in un ciclotrone quindi nonostante oggi il processo sia possibile non dimostra il fatto che gli alchimisti fossero in grado di eseguire trasmutazioni di metalli d'altro canto costituisce comunque una sorta di conferma alle loro teorie e alla convinzione che gli elementi siano realmente trasmutabili i fisici che hanno bombardato il mercurio con le radiazioni fino a creare l'oro potrebbero aver realizzato la trasmutazione nel modo più complicato ma custodito nei manoscritti degli alchimisti o sulle incisioni delle cattedrali potrebbe trovarsi un metodo di trasmutazione più semplice l'esperimento di Harvard sicuramente di grande interesse ha dimostrato come sia possibile una minuscola trasmutazione dell'oro questo a mio parere non può essere una sorta di giustificazione postuma dell'alchimia ciò che è più importante è la ricerca di quell'energia di base che gli alchimisti percepirono per primi e con la quale lavorarono la cosa meno importante è dimostrare se sia possibile o meno la trasmutazione ancora oggi c'è chi insegue gli antichi percorsi dell'alchimia catturato dal suo fascino senza tempo Russell e Sue House sono alchimisti contemporanei per loro l'alchimia non è la ricerca della ricchezza ma quella di una profonda verità spirituale come alchimista del ventunesimo secolo non mi interessa creare l'oro ma non perché creda che non sia possibile la mia passione per l'alchimia è nata quando ero bambino ero molto curioso e adoravo la natura ma ero anche affascinato dai sermoni che sentivo in chiesa se anche gli altri potessero vedere quello che ho visto io al microscopio anche loro sarebbero certi dell'esistenza di una divinità considero l'alchimia come un mezzo per viaggiare dentro me stessa non è semplicemente un procedimento scientifico che si limita a controllare l'esito degli esperimenti ma significa scoprire qualcosa della mia interiorità degli aspetti di me stessa che neanche sapevo esistessero e riuscire a trasferire tutto questo nella mia vita come fonte di crescita ancora oggi il mistero dell'alchimia continua ad incuriosire siamo affascinati dall'antica ricerca dell'oro della divinità e della vita eterna un sogno che continua ad essere attuale come lo stato per duemila anni a l'alchimia 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 l'alchimia